ciao amici di gorizia tv ecco qua una bellissima festa in piazza vittoria che durerà 6 7 8 e 9 ecco il titolo gorizia summer street food una festa guardate un po 6 7 8 9 in piazza vittoria io vi ho fatto adesso alcuni filmati guardate il servizio finalmente qualcosa di nuovo in questa città per rallegrare un po le persone guardatevi il video saluto lo staff lo tiene salutiamo lo staff grande lavoratore oh 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 bu Grazie a tutti Chiudiamo qua il servizio Bene, chiudiamo qua il servizio